Ed oggi parliamo dell'importanza delle concime sulle piante aromatiche, dobbiamo sempre dare un fertilizzante di origine organica, soprattutto sulle aromatiche perché le aromatiche sono quelle piante che noi raccogliamo spesso, stiamo vedendo qua del basilico, della salvia, ma anche il rosmarino, il prezzemolo, la menta, il timo, insomma chi più ne ha più ne mette, e che siccome noi fertilizziamo di continuo per far crescere su bella fresca e ricogliosa la pianta, che poi andiamo a prendere e magari sul basilico ci facciamo un sughetto piuttosto che sul rosmarino ci facciamo le patate, il fertilizzante deve essere ottimo, deve essere chiaramente un organico, perché noi se diamo qualcosa di buono alla pianta, quando la pianta ce la mangiamo sarà buona. Nei miei video vedete spesso che io consiglio il letame, per me è il re dei fertilizzanti, soprattutto quello maturo, però chiaramente mi avete detto sì Pier Giorgio il letame ma chi ce l'ha, quindi consiglioci anche un fertilizzante di origine organica, buono e magari anche per chi ha solamente pochi vasi sul balcone, poche piante aromatiche, quindi ho fatto anche una ricerca per voi, all'interno del box informazioni se lo aprite trovate il link che vi porta alla pagina dove potete anche voi farvi l'approfondimento sulle caratteristiche che ha questo fertilizzante che oggi vi consiglio. Andiamo subito al video, ah e un bel mi piace, spolliciate in su se vi piacciono gli argomenti di questo canale. Ed oggi parliamo di questo fertilizzante qua, di un concime biologico adatto per basilico e tutte quante le piante aromatiche. E perché ve lo consiglio? Ve lo consiglio perché c'è una parte di neem chiamato neem cake, ossia la parte delle bucce con cui è stato estratto l'olio di neem dalle drupe e quindi è stato messo all'interno di questo fertilizzante, darà quindi azoto, ma soprattutto va a migliorare l'assorbimento degli elementi nutritivi da parte della pianta, in modo che la pianta cresce su bella, fresca e rigogliosa. Quindi se il concime organico migliora la struttura del terreno e migliora anche la flora batterica, con questo neem all'interno, gli elementi nutritivi saranno più biodisponibili per le nostre piante, quindi avremo delle piante che hanno un'attività vegetativa molto più vigorosa. Abbiamo detto che è un fertilizzante indicato per il basilico, ma anche tutte quante le altre erbe aromatiche, le stiamo vedendo qua, il timo, la salvia rosmarino, maggiorana origano e così via. Modalità di somministrazione e di utilizzo. Ci si possono chiaramente fare i rinvasi, quindi noi compriamo la nostra piantina e ci prepariamo il terriccio. Il terriccio per metterci la piantina si fa così, si prendono 100 grammi di questo fertilizzante, si mettono in 10 litri di terriccio, si miscela ben bene, si mette il terriccio concimato nel vasetto, ci si mette la piantina e abbiamo fatto. Possiamo chiaramente poi andarci a concimare sia le nostre piante in vaso, che le piante direttamente nel terreno, e quali sono le dosi? Eccole qua. Per le piante in vaso bastano 10 grammi per ogni pianta, da distribuire ogni circa 15 giorni, e come si fa? Ho aperto il neem, eccolo qua, come si presenta questo fertilizzante a base di neem, è questa polvere scura a scagliette con un profumo molto molto intenso, c'è proprio un profumo di olio di neem, e si distribuiscono, questi sono 15 grammi, i 15 grammi sopra l'apparato radicale, in questo modo qua, sopra il terriccio. Dopodiché vado ad interrare un pochino, in questo modo qua, e poi annaffio la pianta. Tutto qui. Per le piante in piena terra ce ne va un po' di più, 15 grammi per pianta, da ripetere questa operazione di fertilizzazione ogni circa due settimane, quindi ogni 15 giorni. La somministrazione può essere fatta in tutto l'arco dell'anno, chiaramente, e avremo veramente piante che crescono bene, ma quando noi raccogliamo una foglia delle nostre piante sappiamo che l'abbiamo nutrita in modo perfetto, con un concime organico naturale, e questa foglia di basilico sarà veramente appetitosa, gustosa e non ci farà male, quindi dico sempre ragazzi, i fertilizzanti di origine organica devono essere la base delle nostre fertilizzazioni, mentre i fertilizzanti di origine chimica di sintesi di laboratorio, quindi i granulari, debbono essere dati solamente come integratori. Chiudo qui in questo video ragazzi, un abbraccio a tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao un abbraccio da Pier Giorgio. Ciao!